Buonasera a tutti amici di Fashion4Fun, oggi siamo in compagnia di Emanuela Pacotto, una grandissima doppiatrice, attrice e cantante italiana. Buonasera Emanuela e grazie per la tua partecipazione. Grazie a voi di avermi invitato, sono molto felice di essere qua con voi, anche perché ti vedo con dietro una bacheca, una vetrina con delle cose bellissime, quindi mi sento anch'io una fan. Benissimo, qui siamo tutti a casa, ecco. Bene, io faccio una piccola premessa, Emanuela nasce a Milano il 7 giugno del 65 e da piccola debutta nel mondo dello spettacolo partecipando a concorsi canori, televisivi e pubblicitari. La sua carriera continua nel coro dei piccoli cantori di Milano con i quali incide svariate sigle televisive. Nel 75 debutta come attrice per poi diplomarsi proprio come attrice, appunto. Successivamente, grazie alla carriera televisiva e grazie a Chismi Licia, nella quale lecita la parte di Marika, si consolaga come doppiatrice. Parto subito col chiederti, sei cresciuta nel mondo dello spettacolo, da prima come cantante e poi come attrice, ma col finire poi ad essere una delle voci più iconiche del doppiaggio italiano. Raccontaci come è nata la passione del doppiaggio e come sei entrata a far parte del mondo dei doppiatori. Allora, in realtà la mia passione per il doppiaggio è esplosa, nel senso che io non ho mai pensato di fare la doppiatrice. Io mi sono ritrovata a dover doppiare me stessa nella famosa serie cult degli anni 80 Licia e dove ho dovuto doppiare me stessa. Quindi in realtà io non ho scelto di fare la doppiatrice, ma mi sono ritrovata obbligatoriamente a farla e poi è stata una passione proprio a prima vista, nel senso che ho trovato prima di tutto una cosa molto semplice per me, molto naturale. Mi divertiva molto questa cosa, per cui finita la serie di Licia, che era prodotta in realtà da uno studio di doppiaggio, è stato automatico cominciare a inserirmi nel vero mondo del doppiaggio, quindi cominciare a fare i provini e quindi sono rimasta lì, perché evidentemente mi piaceva molto questa cosa. Quindi diciamo che poi è soltanto andata a crescere, ovviamente la tua voce è chiaramente leggenda, possiamo anche dirlo. Infatti, oltre a ridoppiare te stessa in chismilicia, per quanto riguarda il doppiaggio, uno degli eventi magari più importanti è stato il provino per Albin Rock and Roll, dove sei stata scelta proprio dagli americani, se non sbaglio. Dicci com'è andata? Ma come succede spesso che ti scelgano proprio, diciamo, i clienti, per cui il tuo provino vola in America, vola in Giappone? Sì, nel caso di Albin io avevo in realtà appena finito di doppiarmi nella serie di Licia e è stato curioso, perché torniamo indietro di un po' di anni, quindi si usavano molto meno gli effetti speciali e gli americani cercavano una voce che senza essere, come si dice, picciata, quindi con filtri o altri artefatti, fosse il più possibile al naturale, fosse il più possibile vicino a quella originale, che invece era picciata ovviamente. Quindi facendo il provino il mio era il timbro di voce che era più simile a Albin originale e quindi in realtà io ho fatto il provino quasi vergognandomi perché ero veramente a fianco comunque a mostri del doppiaggio, cioè accanto a me c'erano Fiodor, c'erano Donatella Fanfani, Marcella Silvestri, però hanno scelto me perché il mio timbro era quello più simile ad Albin e quindi un pizzico di fortuna, io proprio non ho neanche fatto la gavetta, un po' mi vergogno a dire questa cosa, però sono partita doppiando me stessa che ero una comunque delle protagoniste e poi il primo provino scelta, quindi proprio ho esordito con un protagonista che insomma è rimasto un po' nella storia dell'animazione, però è così, non ci posso fare niente Dave, è andato bene e io sono Albin! Era impossibile insomma non sceglierti ovviamente e appunto per questo la tua voce accompagna le nostre beniamine e una delle tante ovviamente iniziamo con Bulma di Dragon Ball. Come andò il provino e soprattutto come è stato lavorare a fianco di Maurizio Torres a Ninarte e Paolo Torrisi? Allora in realtà io non ricordo un provino per Bulma, Maurizio, io lo chiamo Maurizio perché ovviamente, Maurizio in realtà era uno che amava tantissimo questo lavoro e amava tantissimo il prodotto dell'anime giapponese che se torniamo indietro in quegli anni era ancora diciamo un po' una novità e lui assolutamente lo amava, era dentro a questo mondo, per cui per molti personaggi non ha fatto provini ma ha scelto le voci perché sapeva esattamente chi era il doppiatore perfetto per quel personaggio. Io a Maurizio devo assolutamente tutto, nel senso che torni indietro di un passo, quando io ho dovuto cominciare a doppiarmi, a ridoppiarmi nella parte di Marika, in realtà io appunto diplomata attrice sapevo recitare però mi mancava diciamo la conoscenza della tecnica del doppiaggio, per cui avevano deciso di inserirmi in una serie con un piccolo personaggio ma tanto per familiarizzare proprio con la sala, il leggio, il microfono. Il mio primo, primissimo doppiaggio è stato un piccolo pony nella serie dei mini pony, quella veramente degli anni 80, cioè quella proprio la primissima serie e che ho avuto in direzione Maurizio, il quale veramente mi ha insegnato tutto, cioè io ancora adesso ho proprio i suoi insegnamenti che mi girano nelle orecchie e lui veramente mi ha insegnato non solo il mestiere, non solo il lavoro dell'attore ma ad amare questo lavoro, che è qualcosa che va al di là, perché un conto è imparare la tecnica e un conto è avvicinarsi con amore e passione a questo lavoro e mi ha veramente insegnato tante cose, per cui poi aver potuto fare tutta la serie di Dragon Ball con lui è stato veramente imparare ogni turno qualcosa. Lui era quello che diceva non farmele tutte uguali, quindi si faceva capire che dopo tre battute, nella vita quotidiana noi non siamo mai, si spera, noiosi, no? E quindi erano tante piccole cose che però a rimanere ad ascoltarlo, piano piano si impara, si impara, si impara, quindi io devo dire che devo, magari non tutto perché puoi fare torto a tutti i direttori che sono venuti dopo, però devo tantissimo a Maurizio, io sono molto legata a lui. Quindi diciamo che è stata una figura che ti ha fatto proprio amare a 360 gradi il mondo del doppiaggio ed è molto bello quello che dici che ti ha coinvolto e ti ha insegnato dall'interno proprio, che non è una semplice tecnica ma in realtà è quasi essere un doppiatore. Assolutamente, perché lui non dava mai niente per scontato, per cui a volte magari ti capita dopo un tot di ore di lavoro di essere un po' stanco, quindi di farle un po' di mestiere, no? Come si dice. Per lui invece no, dovevi essere sempre vivo, sempre reattivo, cioè ogni battuta aveva una sua vita propria e quindi era assolutamente, cioè è questo che mi ha lasciato proprio ad amarlo in questo senso, a non dare mai niente per scontato. Ed è un bellissimo ricordo. E a proposito di Bulma, come dicevi, il personaggio si è evoluto e cresciuto ed è in qualche modo tu sei cresciuta insieme a lei. Quanto c'è di te in questo personaggio? Guarda, c'è un pizzico di me in ogni personaggio. Penso che diciamo l'artista a 360 gradi ha veramente tante sfumature, tante personalità. Io per ogni personaggio vado un po' a prendere quella parte di Emanuela che potrebbe un po' assomigliare al personaggio e poi cerco di imparare da lui perché fare il nostro mestiere è veramente catartico. A volte mi dico è meglio di una seduta di psicanalisi, no? Perché se io sono un po' nervoso, arrivo, magari Bulma si arrabbia con Vegeta, io mi sfogo, no? Per cui in realtà c'è sempre tanto di me perché io quando arrivo in sala dimentico che devo andare a fare la spesa, che ho il frigo vuoto, cose di questo tipo e sono lì che vivo con i miei personaggi, per cui sicuramente c'è tutta Emanuela. Poi ovviamente loro imparano un po' da me, io imparo un po' da loro, però piano piano siccome tra l'altro oltre a Bulma anche tanti altri personaggi che doppio li stanno seguendo, io li sto seguendo da un sacco di anni, si cresce insieme ed è una cosa assolutamente naturale e automatica perché poi in realtà Bulma ovviamente poi si è sposata e diventata mamma, no? Però oltre a tutto è proprio cambiato anche il tratto del disegno perché comunque sono passati tanti anni e proprio la grafica dell'animazione è cambiata, sembrano tutti un po' più adulti, proprio anche nel tratto e se tu sei comunque sensibile, cioè non è che sei cieco quando doppi, lo vedi automaticamente ti adatti a quello che vedi, quindi una Bulma, tra l'altro Bulma a un certo punto ci sono dei viaggi del futuro, addirittura a un certo punto aveva i capelli bianchi, era molto vecchia, quindi voglio dire devi essere pronto ad adattarti a quello che succede, ma è quello che è divertente del nostro lavoro. Esatto, diciamo in questo senso anche essere attrice ti ha aiutato molto. È assolutamente fondamentale, fondamentale, è la cosa più importante perché ogni volta che tu ti ritrovi in una sala di doppiaggio, poi dipende un po' dai prodotti, però diciamo per i prodotti seriali dove tu non hai tempo di ripetere una battuta 80 volte, non dico un numero a caso, ma so che a volte è successo, no? Ma devi lavorare chiaramente in velocità, tu hai poco tempo per dare il massimo, quindi magari quel giorno litighi con le erre delle battute, o magari la battuta è lunga, o magari c'è l'adattamento che bisogna risistemare un attimo, o magari la scena è complessa perché è di battaglia, quindi tu sei attento a tantissime cose, però è come se tu ti mettessi nei panni del personaggio e poi deve essere tutto in automatico, non puoi pensare adesso io questa la recito così, cioè tu ti infili nel personaggio molto stanislaschiano questa cosa e poi devi andare in automatico, per cui assolutamente essere attore è fondamentale, anche perché ti dà la possibilità di attaccarti a tanti caratteri diversi, a tanti personaggi diversi, ci sono, cioè sarebbe diciamo triste dire chiamala pacotto, fa questo ed è così, fa quello ed è uguale, fa quello ed è uguale ancora. Io mi diverto a, che ne so io, ad andare a Bequestria con Twilight Sparkle e poi a essere Bulma o Nami, per cui è molto divertente e non è solo una questione di timbro, ma proprio di atteggiamento, perché se io faccio Twilight torno un po' bambina, se invece devo fare Bulma che si arrabbia con Vegeta, divento insomma un po' più grintosa, no? E quindi assolutamente la dote attoriale è la cosa fondamentale, fondamentale. Infatti poi si sente magari chi ha avuto un trascorso da attore, insomma anche quando fa il doppiaggio, assolutamente sì, ma non c'è solo Bulma, c'è anche Nami come hai detto, Sakura di Naruto, Jessie del Team Rocket della serie Pokémon, insomma tantissime voci che poi tra l'altro porto nel cuore, perché anche negli anni c'è stato Adoremi, insomma tantissime, tantissime. Tutti questi personaggi li hai doppiati per moltissime puntate, tra l'altro, ognuna ha la sua caratteristica particolare, una sfumatura caratteriale, come dicevamo prima, differente. Come hai deciso di differenziare l'interpretazione di tutti questi personaggi, qual è stato proprio ecco il tuo processo creativo, oltre come mi hai spiegato essere attrice e entrare nei panni proprio del personaggio? Guarda, è una cosa che va in automatico, cioè risulta molto naturale. Stiamo parlando, adesso abbiamo nominato praticamente tutti i personaggi dell'animazione giapponese, però forse Barbie è la stessa cosa, nel senso che nel disegno c'è già tutto, quindi non ti basta soltanto arrivare diciamo in sala di doppiaggio e avere la sensibilità per catturare tutti i particolari del personaggio e ti viene automatico seguire il carattere, perché hanno tutte la loro personalità queste signorine e quindi ti basta seguirle. bisogna, diciamo, la capacità del doppiatore è quello, sì di essere un attore, però un attore al servizio di un'immagine, di un altro attore, per cui in realtà tu devi avere la tua personalità, perché comunque ovviamente devi avere la grinta giusta per approcciare il personaggio, però poi ti dimentichi la tua personalità e vesti la personalità del personaggio. Quindi in realtà, anche perché noi non abbiamo la possibilità di prepararci prima di un turno, a volte ci sono dei ragazzi che mi scrivono e mi dicono, ma quanto tempo prima hai il copione per riuscire a studiarlo? Non ce l'abbiamo, noi arriviamo in strada di doppiaggio, il direttore ti dà il copione e tu entri in sala. Per cui chiaramente è proprio una capacità di catturare mille cose per riuscire a restituire il più possibile quello che il personaggio in quel momento sta vivendo. Perché in realtà è una cosa molto naturale, molto spontanea. Ovviamente anni e anni e anni di lavoro e di esperienza ti aiutano ad appiccicarti tantissimo in un attimo, in un nanosecondo. Tu cerchi di produrre il suono originale della voce, magari nativa del cartone? Allora, io amo molto l'animazione giapponese e cerco di essere fedele a quella che è la colonna originale. Sappiamo che rispetto a un'animazione americana, i giapponesi sono assolutamente un mondo a parte, per cui come trillano e urlano i giapponesi non hanno uguali, no? Ma questo non è che è una follia, è perché è nella loro tradizione, nel loro carattere e questo caratterizza la loro produzione animata. Quindi è giusto seguirli, è giusto essere, infatti mi dicono che io sono l'urlatrice più brava in assoluto, non mi risparmio, io se c'è Nami che urla, urlo, se c'è Bulma che ha una crisi isterica, ho una crisi isterica. Jesse, non parliamone. Per cui in realtà cerco di rimanere fedele a quello che è l'originale, ovviamente non al suono, perché il giapponese ha un suono sulle parole, sulle frasi molto diverso, però sul carattere dei personaggi non mi risparmio, perché quando tu vedi Nami con la bocca a squalo, proprio quei denti fatti a triangolo, a squalo, proprio così, spalancata così, non è che puoi dire ah va bene, arrivo, c'è la crisi isterica, sono proprio così, no? E quindi non mi risparmio, cerco veramente di restituire quello che l'animazione ci mette davanti. Ed è proprio per questo motivo che noi le amiamo alla follia, sinceramente. Passando ai videogiochi, ne hai doppiati tantissimi, parlaci delle differenze che ci sono nel doppiare questi prodotti rispetto ai cartoni, ovviamente, e soprattutto tu cosa ne pensi dell'attenzione che si sta mettendo sempre di più nel doppiare tutto dei videogiochi, ecco? Allora, per quello che riguarda il doppiaggio cartoni animati, film, telefilm, doppiaggio videogiochi è un meccanismo completamente diverso, nel senso che il doppiaggio ovviamente noi lavoriamo con un copione, un microfono, un video davanti dove scorre un'immagine e noi chiaramente seguiamo la bocca e il labiale e l'immagine con la scena e quello che sta succedendo. Nel videogioco, invece, per il 99% del lavoro, noi lavoriamo sull'onda sonora, cioè noi abbiamo davanti un monitor dove c'è veramente l'onda della battuta. Capita ultimamente che ci siano delle scene che invece sono da doppiare, anche perché spesso nei videogiochi ormai c'è un'animazione che rasenta la realtà più vera, ci sono veramente dei video che dici, ma sono finti o sono personaggi in carne ed ossa? Quindi magari abbiamo la fortuna di poter doppiare quelle scene. Però molte volte ci capita invece di dover doppiare delle scene che verranno animate ma che non ci sono ancora, oppure molte volte della parte del gioco sono frasi che accompagnano il giocatore durante il gioco, quindi in realtà non c'è un personaggio, è una voce amica che ti accompagna. Per cui chiaramente l'approccio è completamente diverso. Quando noi ci ritroviamo l'onda sonora che magari verrà attaccata a un'immagine, ci dicono di mostrare nell'onda ma se c'è una pausa in mezzo bisogna rispettarla e lì diventa veramente, non so come dire, uno slalom, no? Pazzesco perché magari con l'adattamento italiano la pausa capita in un posto strano, per cui hai un po', io dico, le battute a molla, nel senso che corri un pezzo poi lo rallenti ma cercando di rendere tutto in maniera molto naturale, no? E ci si affida all'originale, nel senso che se lo senti urlare dici boh forse sono distanti, se lo senti più intimo dici magari sono vicini, poi magari animano la battuta spostando i campi e quindi ogni tanto sembriamo dei pazzi sul doppiaggio dei videogiochi. Oltre a questo che è una cosa puramente tecnica, per me un po' l'approccio con il videogioco cambia perché mentre nel doppiaggio normale la mia voce si incolla a un personaggio, come dicevo prima, molte volte nel videogioco la mia diventa la voce che accompagna il giocatore, quindi ci sono ragazzi, lo sappiamo, che ormai vivono due, tre ore la sera, no? A giocare e io divento un po' la voce amica, a volte magari dicendo cosa fai, no? Sgridandoli, no? A volte insultandoli, però chiaramente il tuo approccio è diverso perché è come se fosse una voce che ti accompagna e non quella che ha la presenza fisica di un'immagine e quindi però tornando sempre al discorso di prima, dipende un po' tutto dalla tua sensibilità, il momento in cui ti rendi conto dove sei e cosa stai facendo, cambiano in automatico tante piccole sono sfumature che però vengono colte, perché a volte veramente io ho ragazzi che mi dicono, ah sei diventata la mia volta e mi hai fatto compagnia perché giocano ai videogiochi mentre preparano le tesi di laurea o gli esami all'università, perché si vede che è il momento di relax, hai aiutato durante gli esami e quindi chiaramente sei la voce che diventa amica, no? Chiudo i libri e vado a giocare con Emanuele Avogotto, quindi questa cosa è molto divertente, quindi devi essere veramente una voce che accompagna con, insomma, con simpatia, no? Perché a volte siamo personaggi un po' discutibili, però tipo sei la Demon Hunter di Diablo 3, quindi insomma non è che siamo proprio simpatici, però diventiamo sì degli amici con cui si passano le ore giocando. Ecco, in questo senso per i giocatori sei comunque un punto di riferimento, per noi che vediamo i cartoni, idem, se la voce ovviamente è familiare, ogni cartone che magari uno guarda si rende subito conto della tua voce, ma tu a quale personaggio sei più legata? Guarda, mi è veramente impossibile scegliere perché, cioè, li abbiamo nominati, sono uno più bello dell'altro, i personaggi a cui ho prestato la voce, però se proprio devo scegliere, 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 io ho un amore particolare per Lina o Rina in verse di Slayers, cioè un incantesimo di schiuso tra i petali del tempo per Rina, questo era il riassunto in realtà di tutto il cartone, che era un personaggio che così, mi ha segnato tanto, per me ha rappresentato tanto e con Rina io mi sono divertita come una pazza, nel senso che veramente in sala di doppiaggio ho fatto delle grandi risate con lei, cioè mi è divertito tantissimo, mi è costata tanto fatica perché urlava come una pazza, faceva dei monologhi senza fermarsi un secondo, per cui veramente in apnea, no? Cioè un fiato e poi dovevi andare per riuscire a starle dietro, però ci siamo divertite tantissimo insieme ed è stato forse il personaggio che mi ha, diciamo, avvicinato un po' di più a quelli che sono gli appassionati del mondo degli anime, perché è stato veramente un personaggio un po' di rottura, perché fino a quel momento i personaggi, cioè le serie importanti erano Dragon Ball sì, ma c'era Boku, poi è arrivato Vegeta, c'erano, cioè erano tutti un po' declinati al maschile, no? Gli eroi, poi c'era Sailor Moon, che però era molto caruccia tutta, no? La maghettina, tutta carina, e poi invece è arrivata Rina che sembrava uno scaricatore di porto, era una pazza squinternata, non la teneva, nessuno era bruttina, ma a dirglielo si arrabbiava come una iena, e quindi questo personaggio è rimasto nel cuore di tanti, e quindi devo dire che tanti ragazzi, poi stavano cominciando i social, Facebook, Instagram forse non esisteva ancora, però hanno cominciato proprio ad avvicinarmi perché io ero la voce di Rina, che ha rappresentato veramente tantissimo. Sì, assolutamente sì, e tra l'altro, la maggior parte dei personaggi ovviamente sono molto amati da te, e quindi la maggior parte dei fan si diverte proprio a impersonificarli, in generale il mondo del cosplay in Italia sta prendendo piede ovviamente in modo più marcato rispetto agli anni passati, tu cosa ne pensi? Sei un amante del genere? Guarda, io tra adoro il cosplayer, ti dico soltanto che io sono stata in Giappone diverse volte e una volta io ho accompagnato la delegazione italiana che rappresentava l'Italia alla finale mondiale del WCS, il World Cosplay Summit, che si tiene il primo weekend, la prima domenica di agosto a Nagoya. Quindi a parte, voglio dire, essere chiaramente coinvolti in questa gara, perché facevo il tifo per le italiane, è stata un'emozione pazzesca, anche perché veramente ho potuto assistere a questo che è una gara, è uno spettacolo pazzesco, con veramente ragazzi che arrivavano da tutte le parti del mondo, uno più bravo dell'altro, ho visto dei costumi pazzeschi, ma dei cosplayer incredibili che facevano evoluzioni, ma veramente mi sembrava di vivere in un film di fantascienza. Quindi io veramente sono ammirata e sicuramente da quando ho cominciato a seguirli, ma veramente 10-15 anni fa li ho visti veramente diventare sempre più bravi, io sono reduce da Lucca Comics, da Cartoon Mix lo scorso weekend e veramente ogni volta mi fermo a vedere dei costumi incredibili. Tra l'altro la gara di Cartoon Mix è stata una soddisfazione personale, ha vinto il cosplayer di Tyring Calypso di Borderlands 3 che ho doppiato io, quindi c'è stato un incontro via social con questa che mi ha detto io porterò questo cosplay, spero di vederti perché tra l'altro è molto complesso come costume, poi invece ci siamo incrociate e mi ha detto che va… cioè quindi un orgoglio pazzesco, un orgoglio pazzesco. Sì, veramente, cioè si arriva quasi a raggiungere, non lo so, magari l'obiettivo di essere così vicina ai fan ancora di più, è questo alla fine. Alla fine ci si diverte insieme, no? Cioè si gioisce insieme per la stessa cosa, è veramente tra l'altro tutto il mondo dei videogiochi, dell'animazione, è la passione che ci tiene vicini e veramente ci fa vivere delle emozioni incredibili, per cui è fantastico, è fantastico. E se per caso mi stai per chiedere, ma non ti è mai venuto in mente di fare qualche… allora no, devo dirlo che c'è stato un periodo in cui veramente mi stavano costringendo con la forza dicendo te lo faccio io il costume. No, io ho un tale rispetto e ammirazione per i cosplayer che lo lascio fare a loro perché sono più bravi, cioè preferisco guardarli perché non è soltanto fare il costume che in teoria il vero cosplayer dovrebbe farsi, no? Con le sue manine. Ma poi vuol dire impegnarsi a entrare nel personaggio, quindi atteggiarsi come lui, preparare… quindi lo lascio fare a loro che sono bravissimi. Io gli do la voce. Esatto, a noi va bene così. A proposito, tu sei una grande estimatrice della cultura giapponese, come ci hai detto poco fa, sei stata svariate volte, ovviamente hai seguito e portato la delegazione italiana in Giappone. Ti prodighi appunto per diffondere proprio la cultura giapponese anche qui in Italia. Volevo chiederti, sei in qualche modo coinvolta nel processo di esportazione del prodotto? Magari che ne so, ne valuti uno in Giappone, una serie o qualcosa e riesci magari a cercare di indirizzare alcune case italiane per prenderne le licenze? Assolutamente no, cioè mi piacerebbe tanto, ma vi assicuro che a seconda poi, diciamo, delle emittenti, dei network, hanno proprio dei contatti loro ed evidentemente già dei ganci con una produzione piuttosto che l'altra. Per cui in realtà sono leggi di mercato che ci passano sopra la testa. È chiaro che se c'è un prodotto di punta, cioè se producono la nuova serie di Dragon Ball, è chiaro che è veramente in prima linea, perché chiaramente lo comprano subito, però per quelli che sono magari prodotti meno conosciuti ci sono altri circuiti. Noi doppiatori purtroppo non possiamo fare assolutamente nulla. Io diciamo tanti anni fa sicuramente portavo in giro il mio entusiasmo verso la cultura giapponese, essendo stata in Giappone cercavo magari di far vivere delle piccole chicche, delle cose. Adesso credo che non sia più necessario, un po' perché la globalizzazione chiaramente ha accorciato le distanze, ma poi perché mentre una volta i nerd vivevano la loro passione nella loro stanzetta, al buio, nascondendosi, perché non deve saperlo nessuno che io guardo gli anime, invece adesso essere nerd è diventato quasi una cosa positiva, non quasi, è sicuramente anzi una cosa da ammirare e quindi ormai non devo più io fare manifesto verso la cultura giapponese perché si sta ormai promuovendo da sola, ormai è diventato un fenomeno globale amato da tutti, quindi non c'è più bisogno di parlarne, parla da sé. Ovviamente essendo un'appassionata e come ci hai detto magari negli anni l'hai vissuto in questo senso divulgandolo e poi ovviamente essendo la protagonista delle nostre beniamine, tu hai una serie animata preferita? No, in realtà no, nel senso che allora io ho veramente poco tempo per seguire prodotti al di là di quelli che io doppio e a volte non riesco neanche a guardare la serie per intero che ho doppiato, sono molto legata alle mie serie e per me è difficile scegliere quale di quelle anche che abbiamo nominato preferisco, perché poi dipende un po' anche dal mio personaggio cosa vive durante delle puntate, nel senso un personaggio come Bulma all'inizio era stra-protagonista, cioè c'era lei e Goku, poi chiaramente c'è stata addirittura una serie in cui Bulma è sparita, cioè io lo vedevo nelle serie e dicevo ma Bulma, non lo so, non c'è, no? È stata dimenticata. Per cui voglio dire, magari io ho amato di più o meno la serie di Drago perché c'ero o non c'ero, per cui insomma dipende un pochino anche dai momenti, sono legata un po' a tutte le serie, non riuscirei a sceglierne una in particolare perché a volte sono rimasta anche particolarmente legata a film d'animazione giapponese che ho doppiato, per cui tempo di pochi turni, cioè è stata un'avventura veloce però mi è rimasta nel cuore e quindi non lo so. Poi tu mi dici a quale sei legata? A quella che devo ancora fare, sono positiva. Ovviamente, esatto, non vediamo l'ora magari di sentirti, ma ovviamente volevo chiederti qual è il personaggio che ti è piaciuto di più doppiare e invece qual è stato il più difficile? Anche se prima mi hai accennato di Rina ovviamente, oltre a lei. Allora, Rina appunto, come ti dicevo, se devo scegliere numero uno, là in cima proprio c'è Rina e sicuramente è stato anche molto complicato doppiarla, poi in realtà non ho avuto particolari difficoltà a doppiare un personaggio piuttosto che l'altro, possono essere difficoltà più tecniche se c'è una che parla macchinetta piuttosto che una che parla a ritmo più lento. Mi viene in mente solo, mi viene in mente un episodio, di una serie in cui però non ti saprei dire che serie fosse e avevo un personaggio più piccolo, però il direttore, Patrizio Prata, in direzione, arriva al turno e mi dice, guarda è un personaggio un po' strano perché ha comunque una cadenza, c'è una parlata particolare, io non so come risolverla questa cosa, cioè cosa ci inventiamo per restituire questa… E noi ci siamo detti, ma se proviamo a spostare un po' gli accenti mentre parla, cioè non so invece che dire sto arrivando a casa, sto arrivando a casa, per darti un'idea, la cosa ci è piaciuta tantissimo, beh ti assicuro che io, allora a metà turno c'era il fonico che non capiva più niente, ma quando tipo ti capita che fai una battuta e magari dice va bene fino lì rientriamo da quella battuta lì, lui diceva un attimo quale battuta è perché non capiva più, cioè non capiva più dove era, no? Io vi assicuro tornavo a casa e di notte sognavo con gli accenti spostati e siamo andati tutti in palla perché sembra una cosa stupida, ma il nostro cervello è tarato a pensare a delle cose in un certo modo, se tu gliele cambi, ti giuro è stato… cioè dal turno dopo abbiamo detto ma perché abbiamo scelto questa cosa qui, finivamo il turno e uscivamo tutti dalla sala completamente rintronati, però è stato molto divertente, dovrei recuperarlo perché… Beh sì, sono curiosa perché è caos puro a questo punto. Ti farò sapere che personaggio era. Sì, ne sarei felice. Volevo chiederti, c'è un personaggio che magari non hai doppiato ma avresti avuto il piacere di doppiare. Guarda, io a proposito di serie che adesso dico, cioè una serie che mi piace molto e sono molto affezionata perché l'ho vista in originale, nel senso non è mai arrivata, sappiamo che Gundam è assolutamente il top in Giappone e la serie di Gundam Seed e Seed Destiny non è mai arrivata in Italia e c'è un personaggio, Cagaliulatta, che è una della militare, è un personaggio molto bello. Arrivasse quella serie mi piacerebbe tanto poterlo doppiare e poi c'è anche un altro personaggio, l'Acus Klan, che invece all'interno della stessa serie invece è un idol, cioè una che canta. Ecco, sono all'opposto, però uno dei due mi piacerebbe perché la serie è veramente, l'avevo vista tutta sottotitolata, ma vabbè, chi ci sta seguendo e l'ha vista sa di cosa sto parlando, è una serie di cui ti innamori. Passano gli anni e quindi diventa sempre più difficile che arrivi, però dovesse mai arrivare. Gustate, squillatemi, io arrivo. Che poi non è neanche, volendo, non è neanche la prima volta che doppi più personaggi in una serie, quindi volendo. Ti sto parlando di due personaggi importanti, finirei, non dico per parlarmi, ma credo anche sì, quindi no, non è il caso. Troppo. Non ci cerchiamo. Ma io mi riallaccio un attimo alle tue origini, non dimentichiamoci che sei una cantante, ovviamente di sigle animate, canti sia in italiano che giapponese, tra l'altro. Parla di questa tua passione, come sei riuscita negli anni, visto gli impegni, a coltivarla? Allora, io da sempre, come dicevi tu, sono partita da bambina cantando, poi negli anni diventando più seria, mi sono messa comunque a studiare canto in maniera diversa, ovviamente non più per divertimento, ma seriamente, quindi comunque, diciamo, ho una voce educata anche al canto. Per cui capita molto spesso che nelle serie, a volte, se c'è un personaggio con delle canzoni, dicono diamolo alla pacotto, perché nel caso dovessimo cantare anche le canzoni, lo fa lei. E questo è capitato, è successo, quindi insomma è stato anche molto bello poter affrontare il personaggio a 360 gradi, no? E poi è capitato che all'interno di alcune serie, c'è la pacotto che fa il personaggio, ma la pacotto canta, quindi la sigla la fa lei. Mi viene in mente Trulli Tales, che è una serie italiana bellissima, dove io facevo, ambientata in un mondo di trulli, io facevo Miss Frisella, giustamente, insomma, perché parlando di trulli, chiaramente la frisella è una cosa che, insomma, assolutamente buonissima e, non come Miss Frisella, ma come Manuela, ho cantato anche la sigla molto carina, quindi insomma, mi è capitata anche, insomma, esperienze di questo tipo. Il mio amore, invece, per le sigle giapponesi è un'altra cosa, nel senso che quando sono stata appunto in Giappone, durante appunto questa gara mondiale di cosplay, in realtà, ti dicevo prima, è un grande show, per cui ovviamente nel momento in cui la giuria si richiudeva, si radunava per decidere i vincitori, c'è stato spettacolo. Io lì ho fatto questo impatto con i cantanti giapponesi e mi ricordo rimasi colpita da questa idol, che vuol dire una ragazzina giovanissima, che cantava questa canzone bellissima, vestita con un kimono corto, quindi un… cioè, sono rimasta affascinata da questo personaggio, appena tornata in Italia ho detto no, ma che cos'è questo? E ho scoperto che era la sigla di Top Hat Tengen, Gurren Lagann, che all'epoca stava andando su TV Tokyo, quindi era il successo del momento, una canzone bellissima. Io da lì ho cominciato a dire, ma la sigla di… in quel momento era forse il periodo in cui stava tornando Slayers e quindi c'era la nuova serie con la nuova sigla, Slayers Revolution, io ho sentito la sigla in giapponese e ho detto no. Io sarebbe bello impararla e mi sembrava una cosa assurda, invece mi sono messa lì piano piano e a orecchio, piano piano piano, piano piano, sembra assurdo perché io non parlo il giapponese purtroppo, invece ha una musicalità tutta sua, per cui, poi non lo so, forse boh, in un'altra vita sono stata, non so, un giapponese, non so dirti perché, ma l'ho imparata e ne ho imparata una, poi ne ho imparata un'altra, poi ne ho imparata un'altra e alla fine, ma un Luca Comics abbiamo creato questo spettacolo che era Idol fatto con tutte le sigle giapponesi originali, cosa che è stata apprezzatissima dai ragazzi, perché tra l'altro mi ricordavano proprio oggi che c'era stato durante una presentazione di un altro progetto un ragazzo che diceva questa cosa è stata bellissima, perché in Giappone capita spesso che la doppiatrice sia anche la cantante, cosa che invece in Italia non succede mai, quindi ho detto tu sei ancora più giapponese dei giapponesi e quindi questa cosa è stata assolutamente una bellissima esperienza, bellissima, perché ti fa vivere comunque la cultura giapponese ancora un po' di più. Esatto, in un altro senso magari uno completa una sorta di cerchio quindi a questo punto. Assolutamente, ma poi perché per chi la conosce veramente la musicalità delle sigle giapponesi hanno un'energia particolare, sono veramente uniche, uniche. Beh, adesso ho visto che ormai nelle emittenti più grosse, cioè ormai insomma nelle multinazionali, ormai i prodotti di animazione vanno con la sigla originale, per cui tutti ci abitueremo alle sigle giapponesi. Assolutamente sì, che sono veramente molto belle, anche noi qui abbiamo delle compilation tra noi di sigle giapponesi stupende, anche quelle vecchie, quindi ci piacciono davvero molto. Ovviamente visto che tu negli anni hai vissuto l'animazione, una serie di anime diversi negli anni, cosa ne pensi rispetto agli anime di oggi, rispetto a quelli del passato? L'evoluzione è stata, diciamo, più positiva? Tu mi parli, allora, a livello grafico ovviamente. Sì, a livello grafico. A livello grafico chiaramente l'animazione è cambiata ed è diventata sempre più bella, ma perché chiaramente c'è proprio una capacità tecnica diversa. Se io penso ai Pokémon di 25 anni fa, i primi episodi, e quelli di adesso comunque sono proprio i più belli. Questo ha portato chiaramente anche a dei cambiamenti sui personaggi, perché comunque al di là del tempo che passa, ma sono passati 25 anni di Pokémon, ma non è che Ash sia diventato così tanto più grande, no? Però, diciamo, è cambiata proprio quindi la grafica, non l'età del personaggio, ma la grafica e quindi automaticamente, insomma, poi noi ci siamo un po' adattati. Se tu mi parli delle, diciamo, storie, guarda, ci pensavamo veramente qualche giorno fa, parlandone con colleghi, che ci sono dei prodotti come Dragon Ball, come One Piece, che non so perché, forse perché quando sono nati in quegli anni ancora c'erano pochi prodotti di quel tipo, cioè non riesco a capire se i prodotti che stanno uscendo adesso, fra 20-30 anni, avranno la stessa aura potentissima di un Dragon Ball. Poi è vero che ci sono prodotti che scimmiottano i primi, cioè se questo ha successo ne facciamo uno simile, quindi chiaramente l'originale rimane sempre il più bello. Però veramente non riesco a capire se ci sarà, come sarà, diciamo, l'animazione negli anni a venire. Sicuramente quelli di cui io fortunatamente faccio parte, sto pensando a Dragon Ball, sto pensando a One Piece, sto pensando ai Pokémon, hanno veramente una carica, un'energia che secondo me, che tra l'altro non è che sono prodotti amati da i trentenni, i quarantennici, quelli che hanno cominciato a vederli all'inizio e sono rimasti affezionati. No, conquistano anche le nuove generazioni e quindi veramente, non lo so, io ti direi che i nuovi prodotti non hanno più quella magia, quella forza. Non so perché, poi magari fra dieci anni verrò contraddetta, spero, però insomma io sono orgogliosa di poter far parte di questi, non so neanche come definirli, perché sono, non lo so. Sono senza tempo, sono amati da tutti, quindi ognuno di noi conosce tutti quei personaggi, quindi questa è la forza maggiore di un prodotto, ecco. Tra l'altro, volevo dirti, tornando alla realtà un pochino, con l'arrivo della pandemia da Covid-19 è cambiato in generale il mondo del lavoro, ma qual è stato il cambiamento che hai sentito di più? Ma a livello personale o a livello lavorativo? Non ti ho sentito perché siamo sovrappi. A livello lavorativo, dicevo. Allora, a livello lavorativo, chiaramente noi, a parte mese e mezzo di chiusura totale, perché io tra l'altro sono a Milano, per cui chiaramente eravamo nell'occhio del ciclone, e quindi chiaramente ci siamo chiusi tutti in casa, quindi è stato di doppiaggio, per un mese e mezzo eravamo lì che non capivamo cosa stesse accadendo. Poi sono state adottate una serie di norme di sicurezza e di igiene, ovviamente, di sanificazione per riuscire a lavorare in sicurezza. Ovviamente la situazione non è ancora assolutamente tranquilla, completamente tranquilla, per cui è tutto un po' più faticoso nelle sale. Noi eravamo abituati a essere convocati in due, tre, per cui magari entrare in sala e stare insieme al Leggio, quindi parlarci, no? Invece adesso assolutamente veniamo convocati a orari a scaglioni, a orari diversi, in modo tale che anche non ci sia troppa gente che aspetta nei corridoi, negli spazi comuni. Con la mascherina, fino al momento in cui siamo davanti al microfono e possiamo togliercela, fra un collega e l'altro viene sanificato tutto, si lascia respirare la sala e cambiare l'aria con le macchine che la sanificano. Quindi è tutto un po' lavorioso, è tutto un po' a ricordarci che ancora non possiamo rilassarci. E siccome in realtà invece noi, quando arriviamo davanti al microfono, dovremmo lasciare, dimenticarci del mondo e pensare a vivere, no? A far rotta sul grande blu, in realtà siamo un po' a volte, ah è vero, dobbiamo aspettare, devo aspettare di non entrare, cioè è tutto un po' insomma più ancora faticoso. Però speriamo insomma che questa cosa, piano piano, riusciremo a lasciarcela completamente alle spalle. E voglio dire, c'è chi sicuramente, penso agli ospedali, penso stanno messi peggio, quindi io non mi lamento e cerco veramente comunque di mettercela tutta, nonostante la mascherina è in tasca. Assolutamente sì, questo è l'augurio che ci portiamo tutti, insomma di riuscire a uscirne presto. Durante il Luca Comics hai presentato Favola e Nanna, è stato bellissimo soprattutto sentire la tua voce durante un'interpretazione dal vivo. Raccontaci com'è nato questo progetto e soprattutto se ci sono altri progetti che lo coinvolgono in modo trasversale, ad esempio rappresentazioni in teatro. Allora, guarda, io ce l'ho qua, così lo faccio. Eccolo! Questo è Favola e Nanna. Allora, Favola e Nanna sono 12 fiabe scritte da me e che in realtà è un progetto che è nato tanti anni fa ed era nato in realtà come video per il mio canale YouTube. Quindi ogni fiaba era un video per il mio canale. E quindi io le avevo scritte chiaramente pensando di realizzare un video, quindi con tanti dialoghi, tanti personaggi e quindi la possibilità, cambiando voce, di, diciamo, animare la storia. Sono passati tanti anni e sono successe tante cose e poi è capitato l'incontro casuale, felice, inaspettato con un editore, con Napoliniani, che ha deciso di farlo diventare un libro. E quindi chiaramente il libro è poi, nella sua edizione cartacea, ovviamente è completato da delle illustrazioni meravigliose, bellissime, di Michela Frare, che è un'amica, ma è anche una disegnatrice per Disney, quindi veramente bravissima, che ovviamente ha arricchito l'edizione cartacea. E poi nel libro c'è anche, sono anche due regali extra, perché c'è una prefazione di Nicola Conversa, che molti di voi che ci state ascoltando sicuramente conoscerete, perché fa parte dei Mirthiop, però Nicola è anche uno sceneggiatore, un regista, un autore, anche lui, e soprattutto è un grande amico, per cui quando gli ho chiesto se aveva voglia di farmi la prefazione, lui mi ha detto, ma sarei onorato, e ha scritto un racconto bellissimo, che quindi è un regalo in più, che è racchiuso nel libro. E poi, per finire in bellezza, c'è anche una post-fazione di Cristina Scabbia, la voce della Cuna Coil, una cantante di fama mondiale, che però durante questo periodo di pandemia è diventata una grande amica, perché ci siamo conosciute virtualmente in realtà, però durante tutti questi mesi, chiusi in casa, non so dire perché, non so spiegare perché, mi è diventata veramente una presenza importante e una grandissima amica. Quindi mi faceva piacere potesse far parte di questo progetto di Favola Nanna, lei ha accettato e mi ha scritto questa post-fazione bellissima. Così, ci sono due regali così, capito? Proprio la pacotta esordisce come autrice, ta ta ta, prefazione e post-fazione con due nomoni. Però, diciamo, uno pensa alle fiabe, e pensa subito fiabe per bambini. In realtà, io, l'abbiamo detto fin qua, è una vita che io vivo nel mondo della fantasia, dei cartoni animati, per cui per me è stato semplice, diciamo, scrivere delle storie con personaggi particolari. Però ho lasciato perdere i principi, le principesse, i draghi, le fate, in cui siamo abituati con le fiabe tradizionali, e invece mi sono lasciata ispirare dalla vita di tutti i giorni. Io non guido, vado al lavoro con i mezzi, quindi mi capita veramente di vivere tanto in mezzo alla gente e di notare tante piccole cose che non mi piacciono, che mi danno fastidio, ma tipo, hai davanti a te quello che prende e butta la sigaretta per terra, piuttosto che, ne so, quello che sale sul tram e non tembra il biglietto e dici avrà la tessera o magari fa il furbacchione. Ecco, per, diciamo, far riflettere un po' su tutte queste cose, ho scritto queste fiabe che in realtà non vogliono dare giudizi, non vogliono fare la morale, ma semplicemente vogliono un po' far riflettere le persone, ma anche su questa vita sempre di corsa, per cui è sempre la rincorsa all'ultimo modello, ma ci dimentichiamo che forse invece ci sono degli oggetti che acquistano valore col tempo. Ecco, sono tante piccole cose sulle quali io con le mie fiabe vorrei arrivare a far riflettere. E quindi in realtà è un libro di fiabe un po' atifico, perché in realtà è dedicato ai bambini e spero che, anzi lo so, che già tanti mi hanno detto no, no, lo prendo che poi lo leggo il mio bambino stasera, no? Quindi che riavvicini un po' gli adulti ai bambini, però credo anche che serva per, diciamo, risvegliare un po' il bambino che è in ognuno di noi e per veramente continuare a farci capire quanto sia importante non smettere mai di sognare. E la magia che hai vissuto tu a Lucca è stato perché sul falco mi hanno detto ma non ci accenneresti qualcosa? E quindi ho cominciato a raccontare una fiaba, la prima in realtà del libro, e mi rendo conto che il momento in cui cominci a raccontarla niente, è magia, perché di colpo rimani rapito, perché entri in un mondo che non ti aspetti, perché il fatto che io faccia vivere i personaggi diventa strano, particolare, per cui anche l'adulto rimane affascinato. Da qui a portare Pavola Nanna in teatro, non lo so, non ci ho mai pensato, cioè me lo dici tu adesso per la prima volta, lo so improbabile. Però sicuramente con Corrado Polini, che è il mio editore, stiamo già pensando invece a probabilmente dei, si chiamano firmacopie nelle varie librerie, che però in realtà potrebbero diventare non un firmacopie, ma magari un momento per stare insieme, vi racconto una fiaba, ci divertiamo un po' insieme, poi vediamo cosa succede. Ecco, quindi magari si potrebbe fare un piccolo spettacolino in posti molto particolari, come sono le librerie. Sì, sarebbe meraviglioso, cioè noi ti aspettiamo a Roma, quindi, assolutamente. Di corte. Spero che Pavola Nanna mi porti in tanti posti. Quindi, con l'obiettivo di Pavola Nanna nel risvegliare il bambino nell'adulto ed educare un pochino il bambino verso l'età adulta, invece, ai ragazzi che vogliono fare il doppiaggio, che cosa consigli? Guarda, forse ce lo siamo detti all'inizio di questa chiacchierata, studiate, 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 perché tanti mi scrivono dicendo senti ho una bella voce, posso venire a fare un provino? Ecco, non funziona così. Quindi, il primo approccio, lo dico sempre, cominciate a iscrivervi a un corso di recitazione, intanto per capire se ci siete portati, secondo se vi piace, e poi da lì cominciate a imparare, perché il percorso è lungo, soprattutto adesso, che comunque la globalizzazione ha un po' complicato tanti meccanismi, per cui veramente il percorso per arrivare davanti al microfono è veramente lungo, dovete essere sicuri che volete farlo. perché ci sono quelli che pensano vabbè, faccio un corso, faccio dieci lezioni e poi comincio a lavorare. Non è così. Non guardate la pacotto che ha cominciato alla grande, ma in genere si fa veramente tanta gavetta, assistendo ai turni, cominciando a fare piccole battute, i cosiddetti brusì, cominciando a sciogliersi davanti al microfono, sperando di avere poi un personaggio magari di 15 righe, poi magari uno di 40, poi piano piano di... Quindi ci vuole veramente tanta pazienza. Se pensate che... Ah, non so cosa fare, potrei... Ah sì, così divento ricco col doppiaggio. Ecco, no, 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 no. Bisogna seguire, ma credo poi come qualunque cosa, bisogna fare una cosa se c'è veramente passione, passione vera. Cioè io lo faccio perché mi piace, non perché voglio... Cioè mi aspetto in maniera scontata a quel risultato lì. Lo fai perché ti piace e poi ce la metti tutta e se è la tua strada, quello sarà. Assolutamente, sono d'accordo, quindi impegnatevi ragazzi. Oltre a Favola Nanna, hai qualche altra anticipazione da darci, magari su qualche serie, qualche nuovo progetto? Allora, videogiochi, serie, di cui però non si può mai dire nulla prima della messa in onda e quei videogiochi sono mutissimi, per cui niente. però diciamo che ci sono cose in ballo che però un po' non se ne parla per scaramanzia. Ci sono tante cose che anche escono dall'ambito doppiaggio, però non lo so, cioè io sono una che veramente si dà da fare a 360 gradi e poi succedono cose inaspettatamente, per cui anche questa intervista con te, cioè non sapevo che l'avrei fatta e invece ci sono cose che accadono per cui non lo so, favola nanna mi sta veramente portando tanto in giro per cui da cosa nasce cosa e quindi non lo so, ci sono tante cose, sai quando si dice si incrocia le dita, però voi tenetemi d'occhio così se succede qualcosa lo saprete. Assolutamente, su Instagram e soprattutto vediamo tutte le tue storie quindi invito tutti i ragazzi a seguirti su tutti i social ma in particolare su Instagram e su Facebook, anche il mio canale YouTube su cui abbiamo appena caricato un'intervista di Luca che chi se l'è persa se la deve vedere assolutissimamente. Per cui sì, tenetemi d'occhio. Assolutamente sì, io ti ringrazio Emanuela è stato bellissimo parlare con te, il tempo è volato, grazie ancora. Grazie a voi e spero veramente di aver passato, che passiate un po' di tempo simpatico in nostra compagnia e alla prossima, alle prossime grazie Emanuela. Ciao.